ferma ferma venite avanti che non sia la beccazza eh Gianni che nappa che però ha anche l'olio vado? eh? senti pronto va dopo va che fattano no no dai ecco dov'è ecco dov'è non sparare lascialo ah è una fagiana una fagiana ma era Antonio quello lì? no era dal bo oh guarda che roba sta tremando l'olio che è? bravo ferma stop 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 ferma 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 bravo vai sei calva sei andata di culo bravi 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 bravi